Il guru della rete è messo alla berlina dai pirati informatici. Il gruppo Anonymous ha hackerato il sito della Casaleggio e Associati. Sulla homepage campeggia un'immagine di Lulz Sec, famoso gruppo hacker americano, e un link porta a una pagina che spiega le motivazioni dell'attacco al consulente per la comunicazione di Beppe Grillo. Sareste estremamente più popolari e ben voluti se la smetteste di dedicarvi unicamente a faide interne e a decidere chi è la persona non grata della settimana. Siete diventate il cancro che vi eravate promessi di eliminare, si legge sul comunicato. Obiettivo dell'azione, come spiegano gli attivisti sulla loro pagina Facebook, è anche smascherare colui che si professa un guru informatico, che offre servizi di sicurezza, che vuole usare i propri portali e sistemi per governare, per fare lezioni e votazioni. Con il loro modo di fare piuttosto scadente, si legge, hanno messo a rischio migliaia e migliaia di persone, dai semplici utenti ai loro onorevoli. Sul blog di Anonymous, ma anche su Facebook, i primi commenti all'operazione sono tutt'altro che positivi. Molti non condividono l'obiettivo, altri ancora giudicano l'attacco inutile, perché fatto contro il blog personale di Casaleggio e non contro la piattaforma dedicata alle votazioni online. Quella sì, dice un utente Facebook, sarebbe stata un'operazione volta a smascherare le debolezze del guru informatico. A creare un blog, si legge, è facile. Questo attacco è davvero triste, si legge in un commento, non solo perché non si è spiegato il motivo, ma attaccate gli unici che stanno facendo qualcosa di buono.